Una serata da incorniciare quella che ha visto protagonista Corona alla strada di Sernia. Noi l'abbiamo seguita e abbiamo realizzato un'intervista in esclusiva per News della Valle Alto Sangro con quest'artista polietrica che è stata la regina della musica densa anni 90 in arte Olga Maria De Sosa Corona. Noi l'abbiamo seguita. 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 Noi l'abbiamo seguita.